Il vaccino anti-Covid non è obbligatorio, ma in base all'articolo 32 della Costituzione, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro, una volta chiamato dal Servizio Sanitario Nazionale, se si è sottoposto alla vaccinazione. Chi rifiuta l'inoculazione dovrà fornire adeguata documentazione medica. Non sono ritenute valide le motivazioni ideologiche. Il datore di lavoro dovrà quindi valutare se quel lavoratore può essere adibito a mansioni e luoghi in cui non può essere esposto al contagio. In caso contrario, potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il vaccino, pur non essendo obbligatorio, lo diventa per appartenere a determinate categorie, come quelle che operano nel campo della sanità, ma anche nella grande distribuzione e nel settore turistico, non appena si potrà riprendere la normale circolazione, grazie all'immunità di gregge che potrà essere garantita solo dopo una vaccinazione di massa. Per quanto riguarda i datori di lavoro e la possibilità che possano licenziare i lavoratori che senza motivazione medica rifiutino la vaccinazione, questi possono rivalersi anche sull'articolo 2087 del Codice Civile, secondo il quale si obbliga gli imprenditori a tutelare i dipendenti e collaboratori sia per ciò che attiene la salute, sia per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'amministratore ha dunque l'obbligo giuridico di impedire che chi entra in contatto con l'ambiente lavorativo possa contrarre il Covid.